però dai la nostra convivenza è cominciata col piede giunto no? si si non so come pensi dai dai siamo partiti all'alimentare e allora hai conosciuto ragazze e ancora nessuno eh io si io si si parla di ragazze e lui sempre presente però ragazzi cioè non è cioè carina però è quello che mi hanno detto che fa la differenza è perché sai che gli hanno detto mamma che combina questa dai descrivi è una delle peggiori proprio ti descrivi è sì è abbastanza alta capelli neri frangettina occhi scuri tipo quella no 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 allora è quella no no mi somiglia a quella è quella no 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 è quella è quella eh sì ciao ciao come stai va bene ciao piacere ci vediamo dopo a caso ti aspetto va bene va bene ciao ragazzi ci vediamo ciao ciao ma la conosci non aveva conosciuto nessuno il marpio cerchio sei sempre il solito io non conosco nessuno e poi sei il primo di tutti i marpioni bravo eh è vero? veramente è mia sorella è vero? ciao